Siamo in Basilicata nella provincia di Potenza e nel Parco Nazionale del Pollino. Siamo a Pecorone a circa 800 metri sul livello del mare, una frazione di Lauria e da qui partiamo per la pista ciclabile della ex ferrovia Calabro-Lucana. Davanti a noi Serra Rotonda a 1.285 metri e questa è la prima galleria che affrontiamo ed è anche illuminata. Ed ecco il primo ponte stupendo che quando ho percorso per la prima volta stavano in manutenzione. E' una meraviglia. Ed eccomi sull'altro meraviglioso ponte che si affaccia su Lauria. Lo spettacolo è grande. E dopo aver attraversato la galleria lunga a circa 800 metri, eccoci alla stazione di Lauria. Siamo alla stazione di caldo. Ok. Ok. Ok, la manutenzione purtroppo qui abbiamo notato che è lasciata a desiderare. La vegetazione sta incominciando a restringere la carreggiata e naturalmente questo significa che non va bene. usciti dalla ciclovia Castelluzzo Superiore siamo andati verso la risalita che porta a Monte Zacca. Grazie a tutti. Ed ora verso il monte Mischarolara, 1068 metri sul livello del mare e passeremo alle pendici. a questo punto. Ed ecco la catena del Polino con Sera del Prede, Monte Pollino, Sera Dolce e Dorme, Sera delle Ciavole e Sera di Crispo. E dietro di noi Monte Alpi e Santa Croce. sullo sfondo Monte Sirino e davanti a noi Monte Zacca. Monte Zacca. E' Monte La Spina e naturalmente Monte Zacca. se luci e Monte La Spina. E adesso stiamo di fronte a Castello Selucci. Monte Alpi e Santa Croce con il mal boschetto e questa casa stupenda. Monte Alpi e Santa Croce. Monte Alpi e Santa Croce. panorami spettacolari ed ora verso il lago della Rotonda. a lato a destra il lago di Cogliandrino guarda è il Monte Alpi. Bene. che ci sono andate a destra ilially e il lavoro di ipotetico? a direttore, sono andate a destra il lavoro di riscaldamento. Sì, c'è un po' lì. e serra rotonda e andiamo verso il lago e si vabbè dipende dal periodo e dalle piogge che ha fatto che noi l'altra volta siamo passati qua sotto vedi dove sta la striscia il lago della rotonda in fase di prosciugamento lì abbiamo castello starsia e dietro c'è monte la spina e ora verso la sella di serra rotonda sullo sfondo monte crivo la serra e il monte coccovello a trecchina madonna del soccorso monte maiorino monte crivo ed ora si scende verso la località morge frazione di laurea sopra la vetta di serra rotonda 1285 metri ed eccoci nuovamente di ritorno alla galleria illuminata e più che lagoneo laurea e pecorone ed eccoci all'arrivo e adesso si va a magnare vicino al lago serino grazie a tutti